Questa è libera e dispensa, basta che ha rispondito, che è fuori, che è fuori, che è fuori, che è fuori, che è fuori. Non voglio stare lì, sempre a chiedere di come vai, a chiedere sempre per favore mi dai. Ehi, brava Giulia, brava Giulia, venite in la lista che vuoi, brava Giulia, brava Giulia, venite, che è lo che vuoi.